la prossima volta che faccio un cambio come mi tasse anteriore e michelello posteriore e molleva la capo di sciù la mitas è fantastica un coppio fanno perciò voglio mettere la mitas ma che si pensa che è superiore ma perchè è nuovo però non lo so loro magari non sto parlando alla nuova carai è pazzesco io ti aiuto lì da quello canale no no non intendo niente per il momento ancora no e il molleva è stato un po' pulate il mio occhio ma se ci passate il mettere un po' salgherone troppo alla spalla ma se ci passate il veloce l'acqua non va da un po' nella coppa la pedale non si stanno a vedere ma io fa pure un bel giro in aeglio per voi è in aeglio qua ah ti parlo in giù ma non ci sono un po' le veneci perciò è più alto no, a nì, a nì a nì è più corto lì, ma avevi più corto tradizioni si, si, è normale sono proprio no, no, no ma siamo . . . . . . Sì non devi trarre mai senti benissimo e non hai chiesto di vincere ti vai con vincere hai chiesto di vincere non devi trarre mai hai chiesto di vincere veci vincere hai chiesto di tor Yang Try hai chiesto di vincere non hai chiesto di cario Grazie a tutti Grazie a tutti Pronto 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Oggi non puoi dire che c'è parte farne di lugire Grazie a tutti 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 Porca puttana Si prende sotto la mente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti